Se è senza ma quello del Movimento 5 Stelle che accusa il Premier di essere un ottimo venditore di fumo non legittimato da un voto popolare. Non ci piace il governo, non ci piace la modalità con cui si è aperta una crisi nei confronti di Letta. Crediamo che sia opportuno soltanto poter tornare il voto.